Allora ragazzi, io personalmente ho sempre avuto un debole per Luca Morris perché io non avevo nessun interesse per lanciare Luca Morris solamente mi sono innamorato della sua musica e l'ho seguito per sempre secondo me lui non poteva diventare avvocato, ingegnere lui poteva solamente fare il DJ un grande applauso Luca Morris Grazie